posto assurdo eh incredibile abbiamo dormito nel b&b più piccolo d'europa siamo nel mondo delle favole aperitivo super fornito non tocca la vasca era veramente gigante aperitivo non male eh ho fatto già tutto qua no 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 ecco chiara ecco fabio passiamo all'altra stanza benvenuti nel mio bagno il tutto è stato ricavato in modo ecologico tu vuoi arrivare solo a sta parte del video ho già mangiato una pure il prato era vero non c'è il letto invece scende magicamente dal soffitto mai vista una cosa del genere anche qua colazione oh basta è domani mattina colazione sera a dormire ma che delle bolle cosa sta inutile dire che ci siamo sbranati tutto farvi capire quanto è grande ogni dettaglio è fantastico soprattutto il picnic su un prato vero ti fa sentire immerso nella natura l'albero dell'amore Raffaele e Chiara mi sono già venuta da te andateci vi divertirete un sacco